Lei anni fa, una decina di anni fa, forse di più, aveva preso un partito che aveva, se non sbaglio, il 4-5% e l'ha portato a un traguardi 26-27%, ovviamente conquistando una larga fascia di elettorato che una volta era moderato, comunque centrista, che potrebbe essere anche un elettorato abbastanza volatile. Una volta si diceva di qualcosa di sinistra, io gli dico perché non fa qualcosa di centro?